Perchè non me ne da piu' a partire da qua? Oddio! Oddio ecco perchè! Ecco perchè! Ecco perchè! Ecco perchè! Ecco perchè! Ecco perchè! Questa è la bella bestia davvero? Non è vero! Alla fine c'era! Ma io lo sapevo che almeno una doveva essere la bella bestia Forza! Forza! Qua dentro ci sta... c'è tutto qua dentro Vediamo la chiave del cesso C'è una in base, una in base, voglio nella porta del cesso Dove? 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 Nel cesso! Nel cesso! Nel cesso! Ma non mi sono cagato sotto! Guardi questo ha slogato qua! Porco Giuda! Signori! Allora mi servo? Ragazzi metto un attimo la visualità e mi metterò ad apprendere da mangiare Capiamo che succede L'arbitro dà in via alla seconda metà della gara C'è spazio per lui! Polla in rete! Non hanno perso tempo e hanno trovato la forza di reagire! E sta scendendo Oh cazzo! Oh cazzo! Oh! Era dietro di me! Non state pazzi! No vi prego fatela qui! Oh ma questo è un coglione! Oh ma... Buonasera! Che succede qua? Io ho il pitone più lungo di tutto il 4 West! Mi fa piacere per lei! Perché dicono che sono brutto? Chi è che lavora qui dentro? Chi è che lavora qui dentro? Ma che me veste? Un mosh bicho! Chi è che lavora qui dentro? Ma che lavora qui lei? Lo vedete? Questo è il cazzo più lungo di tutto il 4 West! Ma che? Non ho riferito! Ma loscarii smoke! C'era gente qua dentro! Oggi ho fatto! Oggi ho fatto! L'ho lei in moto! Ho lei in moto! Basta basta Riparlasci aspetta, dice Riparlasci il BATER CONSOL Aspetta? Ho Tabiiפà Ohhhh... Nonna Oh Mi caio Eppure erano tantissime i Quelle che ha scritto lui Parlaci Stai provando Che sta a fare quello Ma lo sta appeso Ma sta citando quello Che sta a fare Come ha fatto quello Ok sei sceso Come cazzo ha fatto lo voglio fare pure io Non lo voglio più fare Non lo voglio più fare Chi è Orsinto Non ridere Era tu Ha fatto la guerra Mi hanno sparato Quale cosa da considerare Non è che deve parlare lui Non lo so è che si vendeva Cavallo Marco Isec08 Hei piedi morbidi Da 23 maggio Riaccomi per un altro mese Di delirio BB Paura Ehe abbassi sto culo Sei una porca Sei una porca Sei una porca ti piace che te lo dico? tu non è ancora una volta è una volta oh shit non ho fatto dubblo mmm mamma mia stai 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 questa è una bella Getsu Creed ma noi sentite ok perfetto noi siamo dei nani o dei bambini? porca puttana ma vaffanculo mi sono già spaventato sei pro... padre sei pronto? ho dato nemico in arrivo dai venite a coprire per la madonna per la madonna dove hai sboccato? dove raccontare le cazzate? dove? e luco ma non è che mi vado a calcolare l'angolazione ma per favore faccio vedere una giocata raga minchia tutti quelli vado 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 aspetta che se no casca arma qui addom e cuffie no 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 dai non ci voglio credere che no casca no non ci credo io non ci voglio credere usciamo ho droppato l'armor l'hai presa via passami pure i materiali va bene e te li passo dopo e vado un attimo in giro oh cazzo corro più veloce io vaffanculo sentire eh queste cose cristo oh sei riuscito a fargli la foto ma sono morto oddio no 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 questa non esiste questo è il rigore questo è un rigore enorme questo è il terzo rigore che non mi ha fischiato no 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 questa questa non esiste no questa non esiste proprio questa non esiste proprio questa non può non può esserci questa roba no no non può non ha fischiato neanche questo cioè se non ha fischiato neanche questo mi spiace bravo lauribu oggi bellissima partita tra l'altro a maniera mamma mia mamma mia che che precisione un breve che facoltare gli avversari mamma mia un reset clamoroso ci siamo allungati mamma mia che utilizzo delle roll incredibile ci sono mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia io non ho mai visto che voi non abbiate mai visto un'esibizione video di visto di storia libro che no no assolutamente no assolutamente no assolutamente no si è con te oddio stanzi mando Sam mamma mia mamma mia se abbi mamma mia nu non riuso nu n n n n Grazie a tutti.